Mamma mia, cioè ragazzi, voi andate a vedere gli streamer quelli professionali che hanno tutte le grafiche già pronte Hanno già i discorsi, sanno interagire con la chat e poi venite in questo stream con me Cioè, con me Ragazzi, per favore No Per comodità, infatti prima non hai visto come le sono messe dietro al colla, avevo il microfono davanti Comunque, ragazzi, abbiamo un match abbastanza interessante, in quanto sono due player abbastanza Non voglio dire valorosi, però non mi viene il termine, perché l'italiano è una lingua bella Diciamo che sono degni di nota, quindi vorrei farlo Ciao Comunque, persone se ne vanno Sì Allora, stavo dicendo Essendo due player degni di nota La mia scarsa professionalità Nonché la mia scarsa competenza Sia nel gioco, sia nell'uso delle parole e della lingua stessa che io ho, Natia Vorrei lasciare il commentary al gioco stesso In quanto, come potete vedere Se siete in questa chat Sarete sicuramente Cioè, avrete almeno una volta giocato a Smash E quindi conoscerete le meccaniche, le mosse Quindi è inutile che vi sto a dire Oh, guardate, ha fatto 4 smash l'ha ucciso a 60 Bravi ragazzi Numeri 1 Quindi Cresciamo, diventiamo maturi Allora, sta giocando Riser Sì Non ci credo mai No, ragazzi Vieni qua, ti prego Ti scongiuro No, ti scongiuro Su stream Vieni qua No, serio Ti offro un caffè Vieni qua Serio No, ragazzi Vi devo far vedere una cosa Allora Va bene C'è il match È molto importante Ma credo Che questo evento Sia Uno dei Non dico raro Però è insolito Ma soprattutto In un torneo Ho stato in un luoco Dedicato al gioco E all'intrattenimento Vedere una persona Che mangia il rotolo Della mortadella A morsi Proprio il rotolo Tu non mi interrompi mai E tu? Sarà sempre là dietro Vabbè È abbastanza insolito Vedere Dario Che mangia la mortadella Morsi Quindi ora Lo porterò Qui A fianco a me Metterò la cam Commentatori Quindi non mi odiate Se non vi faccio vedere Bene il game Ma Ragazzi Ecco a voi Dario vacca Devo cominciare Mentre mangio La mortadella Devi solo mangiare La mortadella Poi gli occhi Senta Il rumore Della mortadella Non lo roviniamo Oh grazie Perché il microfono Stream Add ranca Con alta qualidade Nel Di Final C'è Sì Alla Ci Vibli Da Dovrei mattina mi alzerò con un infarto Se tu vai a vedere lo stream, se tu vai a vedere lo stream io ho spostato la camp per far vedere la notte adesso Ma però Julio con 3.20 va a venire la fame chimica Eh vabbè con 3.20 A favore qualcuno fa la screenshot vi prego Mi devi che la mettono a cingere di tutto Sì Pareggio incredibile Momento di movimentazione Le acque tremano Ma tu sei secondo il game veramente No ti do solo chi vince e chi vince Ragazzi comunque il nostro commentatore sta mangiando un rotolo di chili È buono Tutta la notte Kirby e pagnotte Bisogna integrare coi carboidrati le proteine No 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 Di cosa stavo parlando Se carica E infatti Se carica la palla ombra è un uomo vero Ora mi è venuta Ora mi è venuta voglia di rotoli di mortadella Ragazzi Allora io ci stavo a fianco Stavo tenendo una poker face assurda Si sentivo un odore di mortadella Io non potevo resistere Era troppo buona Come arrivo a casa vado a comprare mortadella Non sto scherzando Qual è? La megaforce La megaforce ragazzi sponsorizzateci Megaforce Siamo qui per voi Idei Allora Qua dice Con la mortadella Soft drink With caffeine And taurine With added Ah c'è la sperma di toro La taurina fa bene Ah non bevetene troppa Che veramente È cancerogena No joke Vabbè c'è già la vita fa schifo Ma tu vedi il Red Bull a 45 centesimi Che quando lo prendi Anzi Red Bull di sottomarca Un motivo in più per prenderlo C'è ragazzi Qua si va a risparmere Dicevamo High caffeine content Not recommended for children Or pregnant Or Brist feeding woman Quindi Non è consigliato per Le donne incinta O chi sta allattando Samuele se sei incinta Non puoi perdere la megaforce Eh mi dispiace Samuele Ah è vero Ah ok c'è l'italiano Sono scemo Iperattivo Oh Oh Comunque ragazzi Se siete deboli di cuore O di orecchie Abbassate È troppo tardi No 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 io non mi vergogno Allora ragazzi Gli streamer grossi russano On cam Scorreggiano On cam Io non posso fare un ruttino Ragazzi Meglio fuori che dentro Dice un grande saggio Il tuo telefono Te lo faccio squillare me Ah ma il mio telefono Invece Ah ma il mio telefono Ah no sta a fianco a me È il mio telefono Chat è il vostro telefono Dov'è? Lo state usando per vedere la stream Premete uno Se state vedendo la stream Con il vostro telefono Premete due Se state vedendo la stream Con il telefono di qualcun altro Premete tre Se state vedendo lo stream Con un tablet Per abbassare ancora La qualità dei contenuti di sto canale No no assolutamente Ma più che altro La qualità Sembra che non sia di merda Assolutamente sì 2-1 Ragazzi Winner Ah non l'abbiamo Makes 3x3 Ah ok Winner Seeeeee Eee Mi Anche qua Sei raga c'è Ragazzi Voi non dovete Prediligere gli stream Già fatti Con le grafiche Pre-organizzate Voi dovete prediligere Le persone Che ci mettono l'anime E' Losers Ragazzi Come vi avevo già detto baby please loser surround 4 ragazzi signore signore anche noi sbagliamo errare umane è errato quindi mi raccomando regala bracket fai punto esclamativo bracket sta scritto qui proprio lì lì qui 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 sotto qui sta scritto per la bracket punto esclamativo bracket ragazzi per la bracket punto esclamativo bracket